Ma la situazione è molto molto grave ma anche molto poco seria, abusiamo di questa citazione di Flaiano, ma è la regola che si sta dando questa destra, perché vede, è molto grave perché noi abbiamo sentito molto chiaramente l'attribuzione della responsabilità al giornalista che non si è dichiarato sul fatto violento, che poi viene, bontà sua, condannato e che rientra in quella che è una forma, un riflesso condizionato che è a questa destra di continuo attacco alla libera stampa. In quelle parole c'è anche un attacco che avevano fatto Donzelli, che aveva fatto all'inizio la stessa Giorgia Meloni, anche alle modalità di inchiesta di fanpage. Alla fine noi vediamo una crescente insofferenza da parte del governo nei confronti dell'inchiesta, dei giornalisti indipendenti che fanno il loro lavoro e questo contribuisce a porre un'allarme che l'Unione Europea oggi rivela, non per una ritorsione di Giorgia Meloni, nei confronti di Giorgia Meloni semmai c'è stato un trattamento di favore nell'aver tenuto nascosto questo dossier e non presentandolo in fase elettorale, in fase di trattativa, questo io vorrei dirlo in maniera molto chiara, e che si somma a quello che diceva Sinibaldi, all'occupazione della RAI, a un disegno, non dimentichiamolo, che è partorito a Palazzo Chigi di una ulteriore concentrazione del potere mediatico nelle mani della maggioranza. Vogliono vendere la seconda agenzia di stampa del nostro paese, l'AGI, di proprietà dell'ENI, un'azienda partecipata, a un parlamentare della maggioranza, cioè il ministro che vende al parlamentare di maggioranza. Io ricordo precedenti solo alla fine della dissoluzione dell'Unione Sovietica, cioè pezzi di partito che si prendono pezzi di Stato. Questo è, diciamo, il quadro in cui nasce il problema della libertà di stampa, però è anche molto, guardi, io esprimo solidarietà al giornalista, solidarietà a tutta la stampa, anche per l'inversione morale, ma persino per l'inversione logica. Ma che vuol dire quello che ha detto la russa? Cioè se si fosse dichiarato l'avrebbe romenato di più o di meno? Non si capisce questo ragionamento. Dico di più che però l'idea che passa anche in Fratelli d'Italia, che le parole di la russa non vengono censurate, perché alla fine la russa è uno che straparla, anche questo denota un grave senso, una grave mancanza di senso delle istituzioni. La russa è la seconda carica dello Stato e chiudo però su un punto che io ho ascoltato tutti. Il problema è che non basta condannare la violenza e noi la violenza la condanniamo sempre. Il tema qui è assumere le conseguenze politiche di questa condanna. Casa Pound va sciolta. Il governo deve sciogliere un'organizzazione che è la causa di quella violenza, perché la sua ideologia fascista è la causa di quella violenza. Si stanno trincerando dietro una interpretazione della legge faticosa. Era ministro nel 2000 Enzo Bianco, ministro dell'interno, sciolse il fronte nazionale. È possibile farlo, è generoso farlo. Hanno assaltato la CGL quando Giorgia Meloni faticava a riconoscere la matrice. Continuano a esercitare violenza politica che vediamo anche in tutta Europa. Al di là di questo, lo scioglimento di una forza politica... Sto parlando dello scioglimento di tutte le organizzazioni neofasciste. Casa Pound, Forza Nuova... Ci arriviamo, perché su questo oggi Caselli, procuratore per anni, antimafia, poi a Torino, insomma dice ho qualche dubbio e anche lo stesso Luigi Manconi in questo studio aveva sollevato qualche perplessità. Ma il dibattito è aperto. Restiamo sciogliati.